Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola su Milano. Questa è stata la prima settimana del 2021, Milano miglior piazza sui listini che seguiamo. La settimana era iniziata con un'apertura in gap up a lunedì rispetto all'ultima chiusura del 2020, con un allungo fino sulla resistenza del 2020-2005, resistenza che ha fatto il suo lavoro e pertanto la candela della seduta di lunedì si era poi chiusa in rosso. L'apertura di martedì è stata un'apertura in gap down, gap down che poi è stato chiuso e la candela che è rimasta era una d'oggi che lasciava aperti spazi sia per un'ulteriore discesa che invece per un rialzo. Rialzo che c'è stato nella seduta di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio sulle notizie dello spoglio dei dati nel Senato americano, dove pareva che appunto i due senatori andassero a rimpolpare le fila dei democratici, di conseguenza mani libere all'amministrazione Biden per quello che riguarda i prossimi due anni e di conseguenza una maggiore apertura della nuova amministrazione americana verso l'Europa. Anche qui apertura in gap up, discesa, chiuderlo, ripartenza, break finalmente dei 22.500 punti, successivamente nell'estituto di giovedì e venerdì vi sono state due aperture in gap up, tutte e due poi hanno portato la chiusura. Nella giornata di giovedì i listini europei hanno sofferto di meno la problematica dell'assalto a Capitolilla a Washington in quanto avvenuto nelle ore in cui ormai i listini europei sono chiusi. La seduta di venerdì infatti si era aperta in gap up proprio per il motivo in cui il peggio era passato, però poi diciamo che la debolezza del venerdì si è fatta comunque sentire. Il test ai 23.000 punti è stato perfetto, vedremo come andrà la prossima settimana. L'importante è stato comunque rompere questi 22.500 punti che adesso diventano il primo supporto. Vi vogliamo ricordare il nostro canale mactrader.it, entriamo quest'anno nel nostro quinto anno di attività, è tutto nato nel 2016 quando abbiamo creato il nostro primo canale Telegram ad accesso gratuito. Un canale dove volevamo dare e dove diamo tuttora quel supporto che noi avremmo voluto trovare agli inizi di della nostra carriera come trader. Oggi il mactrader è un progetto ambizioso e in costante evoluzione, ma il canale mactrader.it rimane sempre il primo punto di incontro fra tutti gli appassionati dei mercati finanziari e noi. Vi preghiamo pertanto, vi consigliamo pertanto per di venirci a trovare sul canale di Telegram mactrader.it. Con questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.